Invecchiare in buona salute vuol dire mantenere un ruolo attivo nella società e sentirsi autonomi e realizzati anche con l'avanzare degli anni. A partire dalle attività di assistenza domiciliare, il Comune di Napoli promuove un percorso per migliorare la qualità di vita delle persone anziane ed intesa con l'Associazione Internazionale dei Lions Clubs Distretto 108IA è stato siglato un protocollo che prevede la formazione di 25 operatori familiari. Accanto a quello pubblico c'è un welfare parallelo, quello privato, spesso però non tutelato, non sufficientemente garantito, spesso si tratta di un lavoro non professionalizzato e di un lavoro non regolarizzato. Questo progetto ci consente di avviare a regolarizzazione questo lavoro, quindi restituire dignità alle lavoratrici e ai lavoratori, soprattutto spesso immigrati e extracomunitari e di sviluppare le loro competenze. Per questo partiamo dalla formazione. Il corso, completamente gratuito, è realizzato da docenti scelti tra i soci dei Lions Clubs e vuole fornire nozioni sulle principali tecniche di assistenza agli anziani. È la prima iniziativa di un più ampio piano sulla promozione dell'invecchiamento attivo realizzata in collaborazione con la Terza Municipalità. L'asticella dell'impegno si deve alzare e dunque c'è la necessità e il dovere da parte delle associazioni di partecipare a cogestire le problematiche, non solo quelle di ordini sociali.